Ultimo appuntamento, prima di Natale, con Marta Gerricks. Stai interferendo in un'indagine. Sono della Lea, tu stai interferendo con la mia indagine. Non ci provare. Non ci provare. Sempre no. Quello non è normale. Si è appena chiuso in un bagagliario. Vorrei poter dire che è la prima volta. In prima visione assoluta. Queste macchine tedesche mi confondono. Lunedì alle 21.10 su Italia 1, Lethal Weapon. L'hanno preso.